Bucarest, secondo le ultime notizie dell'agenzia Reuter, il destituito ditatore romeno Nicolai Ceucescu con la moglie Elena avrebbe lasciato il paese, ha trasmesso la televisione romena. Ricordo anche che davanti alla sede del comune di Roman i dirigenti comunisti stavano fuori, avevano gli sguardi paurosi, stavano inermi, loro che fino a un attimo prima vestivano di prepotenza. Grazie Grazie